Doccia fredda per il Torino, assolutamente una notizia che, in primis, non mi aspettavo, ma che potrebbe seriamente ripercuotersi nel futuro dei Granata. Vale a dire, probabilmente la società di Cairo non riscatterà Brecalo, un giocatore importante che comunque ha, diciamo, reso bene in quest'anno di apprendistato in Serie A, ma che stando al kicker e stando a fonti autorevoli, sembra che il giocatore non voglia restare al Torino, considerazione fatta anche dall'entourage e anche dal padre del calciatore, giocatore che è impresso al Wolfsburg, che ha un ditto di riscatto a fuori di Granata per 11 milioni di euro, stasera la deadline, ma appunto per questa reticenza il giocatore rimane al Torino, sembra che appunto non verrà riscattato, quindi un ulteriore problema per la società di Cairo, che eventualmente per la prossima stagione deve sostituire uno degli uomini, non dico imprescindibili, che però, quantomeno a livello di realizzazioni, però ha un giocatore molto importante su una trequarti, su una trequarti che vede anche Praet, in dubbio, un Pobega che ha giocato in quella porzione di campo che tornerà a Milan, un Linetti che ha giocato in quella porzione di campo che probabilmente verrà ceduto, veramente non me l'aspettavo, io davo per scontato quasi che il giocatore rimanesse appunto al Torino, che venisse esercitata questa clausola e che il giocatore fosse contento di rimanere a Torino, anche se comunque ha fatto dei riferimenti alle sue ambizioni a quelle del club. E qui torniamo al discorso di Cairo. Cairo fa una squadra, ma mettendo sul piatto delle ambizioni importanti, o di casi Brecalo ce ne saranno, perché i giocatori talentuosi non vogliono rimanere per un anno, due anni, tre anni, accontentarsi del decimo, non opposto, ottavo posto, e poi costruire un legame indissolubile con la maglia. I giocatori hanno la loro motivazione, hanno le loro ambizioni, quindi che succede? Un giocatore come Brecalo, che è comunque importante, va al Torino, gioca, arrivano decimi, ma arriva un punto che il giocatore vuole uno step successivo. Il giocatore dovrebbe tornare in prestito al Wolfsburg, ma sicuramente rimarrà con tanti scadenze del 2023, quindi potrebbe partire in estate per una cifra anche inferiore agli 11 milioni di euro, ma per un semplice motivo, perché quando Brecalo arrivò a Torino vi erano due anni di contratto, quindi la potenza contrattuale, il potere contrattuale del Wolfsburg verso il giocatore Granata era maggiore. Adesso, se torna in Germania con un anno in meno di contratto, quindi entra nell'ultimo anno di contratto, l'entourage, e secondo me questa è la mossa, l'entourage dice, allora, io ve lo porto via, a 11 milioni non se ne parla, ve lo porto via a 5, 6, 7. Poi, quei soldi che il club acquirente andrebbe a risparmiare, glieli sbatte l'ingaggio. Sono, non dico pressoché sicuro perché non voglio peccare di hubris, però potrebbe essere una mossa nel calcio moderno molto, che va molto in voga. Un giocatore che sembra avere nelle mie, nel suo tempo, nella Premier League, ma anche un grandissimo amore per la Liga, un giocatore che potrebbe, come caratteristiche, essere molto importante per la Liga, soprattutto perché in Spagna amano quei giocatori un po' più bassini, un po' più tecnici, un po' più veloci, anche se ovviamente lo stesso Brecalo deve migliorare in fase realizzativa, perché quest'anno, secondo me, ha segnato un po' pochino. Lo vedo un po' meno da Premier, perché Brecalo è piccolino, ma non ha quella garra fisica, quella fisicità che gli permetterebbe, secondo me, di avere un impatto importante con la Premier League. Secondo me è più un giocatore da Liga. Ma ripeto, è clamorosa questa cosa. Io avevo già in mente di fare un video sul Torino, dove vi rispondevo a tutte le domande, e magari lo farò, però mi devo spolerare un cavo d'argomento, perché l'argomento Brecalo è trequartista, l'avrei assolutamente affrontato. Ma ora, se veramente, come pare che sia vero, al 99% non verrà confermato Brecalo, si farà, secondo me, ancora più importante il nome di Aramo in fase di ritorno. Perché già si era fatto, appunto, un CTP, un giocatore che ben si è comportato a Venezia, un momento un po' di stallo, perché è partito veramente benissimo, poi ha avuto dei mesi un po' meh, poi si è un po' ripreso. Ripeto, un CTP del Torino, classe 95, che andrà a compiere 27 anni, a meno che non li abbia già compiuti, però che potrebbe dare, in quella porzione di campo, le stesse caratteristiche. E vi dico, ora che faccio un piccolo collegamento mentale, non è che il discorso di Aramo si è entrato in voga, già perché si sapeva del destino di Brecalo e magari la notizia è uscita soltanto oggi, in prima mattinata. Il dubbio un po' mi viene, magari no, magari è un discorso che Aramo veniva valutato a prescindere, però gli indizi potrebbero fare una prova tecnicamente, quindi non escludo anche questa altra opzione, quindi che il Torino abbia cominciato a ripensare ad Aramo, il più giocatore, bene o male fisicamente simile come caratteristica Brecalo, e magari era già stata una decisione presa, ma non comunicata. Una bella grana, una bella grana perché poi la tre quarti del Torino praticamente è totalmente a rifare, un attacco del Torino da rifare, con un Zaza, con un Pellegri da cedere ovviamente, con un Pellegri da riscattare, con un Belotti che molto abilmente, o meglio, ormai non si può più dire tutto, rimarrà, non rimarrà, un Sanabria che cederà a mani basse, Mora, Pobega che se ne va via, Linetti che dovrebbe essere ceduto, Piazza che torna a Juventus, Brecalo che non verrà riscattato, ragazzi, il pandemonio. A Torino si sta scanderando il pandemonio, e non solo, Juric apprezzava molto Brecalo, ma Juric potrebbe entrare nelle grazie della nuova dirigenza atalantina, qualora non dovesse essere confermato Casperini, ma ora mi pongo la domanda. Secondo me Juric sarebbe rimasto, ma ora che vede anche questi problemi, ragazzi, non lo so, il Torino come può rifondare un'altra stagione, o meglio, fondare un'altra stagione sulla programmazione e sul costruire dalle basi della stagione appunto 21-22, oppure diventa veramente una polveriera, una polveriera perché poi vi è un effetto domino, ma una cosa deve cambiare, e qui non si filiera mai il mio video, ovviamente, lui come Vagnati, come chi che sia, ma un messaggio a Cairo, Cairo, se vuoi confermare gente come Brecalo, gente importante, giovane, che ha ambizione, e chi ti viene al Wolfsburg, la società della terza serie del, non so, di Panama, se vuoi mantenere giocatori così, devi cambiare mente, devi cominciare a investire, devi cominciare a trattare il Torino, e i tifosi del Torino, con le ambizioni, che il Torino merita, perché altrimenti, di casi Brecalo, ne avrai sempre di più, e i tifosi avversi, ne avrai sempre di più, ovviamente i tifosi del Torino, fatemi sapere qui sotto, cosa ne pensate, di questa sorta di breaking news, mattutina, spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso, ci vedete anche il video, iscrivetevi al canale, e vi vedete sempre aggiornati, vi mando un abbraccio, e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!